La mostra è stata, diciamo, alla scadenza, fissata già al 31 gennaio, è stata prorogata perché in realtà abbiamo tante e tante richieste ancora di scuole, scolaresche, studenti e quindi ci è sembrato doveroso per prolungare la scadenza. Ma in realtà si inserisce questa attività in una serie di attività ancora più ampie perché il progetto scuola, il progetto Telesio, prevede che vogliamo offrire al territorio la possibilità di approfondire, di studiare, quindi non solo i nostri studenti che al mattino frequentano ovviamente la nostra scuola ma che si fermano anche il pomeriggio a studiare, ma la scuola è aperta fino alle ore 20 proprio per offrire al territorio la possibilità di studiare, di approfondire, di curiosare e di avere uno spazio proprio per poter crescere culturalmente. Quindi il Telesio a servizio della città. Proprio a significare che non ci sono muri tra il Telesio e il territorio, dobbiamo creare un osmosi, dobbiamo scambiare con il territorio idee per andare via alla sera con più idee, anche con quelle degli altri. Grazie a tutti.